Parliamo di una problematica che riguarda appunto i padroni dei cani, i cani in genere. Capita spesso di incontrarsi davanti ai cani slegati e a volte può succedere il peggio come è successo all'inizio dell'anno. Esattamente. Allora è successo che all'inizio dell'anno, zona Grassobio, dove c'è il parco dell'Oasi, quindi dietro anche al nostro super rifugio del canile di Seriate. Io con la mia proprietaria, con una maltesina piccolina, oltretutto arrivata proprio per la famiglia nel nostro Natale del 2023, siamo usciti per fare la nostra passeggiata e noi chiaramente eravamo a guinzaglio con tutta la famiglia. Improvvisamente dall'altra parte c'è arrivato un proprietario con il suo pitbull femmina libero. Nel momento in cui io mi sono accorta chiaramente che stava arrivando il pitbull, mi sono messa lateralmente sulla strada, ma è stato troppo tardi perché nell'arco di 5 secondi la pitbull si è scaraventata sulla nostra piccolina, la nostra piccola maltesina. Abbiamo cercato di intervenire chiaramente, oltretutto si è fermata anche una coppia in macchina per aiutarci, ma la piccola cagnolina era già praticamente in mezzo a distanguata. Il proprietario si è scusato in qualsiasi modo dicendoci anche che era la prima volta che succedeva, come capita di sempre di ricevere queste risposte. Chiaramente noi siamo intervenuti tempestivamente portando la nostra piccola maltesina dal veterinario, ma durante la notte il cuore ha ceduto. La legge cosa direbbe? Allora, la legge prevede che i nostri cani, pur bravi che siano, soprattutto su strada, devono andare al guinzaglio, solo e obbligatoriamente al guinzaglio. Dovrebbero essere anche al guinzaglio durante le passeggiate in montagna, nei boschi, nei campi, ma soprattutto ricordiamo che in passeggiata in un contesto urbano il cane va tenuto solo e esclusivamente al guinzaglio. Non esiste più purtroppo una legge che prevede che esiste cane cattivo o cane non cattivo, anche perché il pitbull che ci ha attaccato non è un cane cattivo, è geneticamente perfetto lui. Sta a noi proprietari, noi padroni di cani, intervenire su questa cosa. Quindi da buon proprietario e da educatrice io vi consiglio di tenere i vostri cani sempre al guinzaglio e di tutelare voi, i vostri cani e anche le altre persone e gli altri cani. Cosa rischia il proprietario in questo caso? Allora la legge è molto vaga perché siamo in Italia, quindi la legge è molto vaga, va da una sanzione a potrebbe essere anche il ritiro del cane, quindi il sequestro del cane chiaramente. Quindi bisogna capire la legge nella nostra italiana ma soprattutto anche la legge regionale che cosa dice in base a quello che poi appunto avvocati e assicuratori decideranno. Quindi ecco, attendiamo. Più che altro neve in questo momento, la nostra piccola maltesina non c'è più.